È ancora prematuro trarre conclusioni ma sembra sempre più probabile l'ipotesi che dall'orditoio che ha ucciso l'apprendista 22enne Luana Dorazio stritolandola nei suoi ingranaggi fossero state rimosse alcune protezioni. Le indagini dei periti sul macchinario dell'azienda di Oste di Montemurlo sono state però rallentate dal fatto che l'orditoio che è stato rimontato per effettuare le prove non si è subito messo in moto e non ha portato a termine l'intero ciclo di produzione, tuttavia alcune anomalie sarebbero già emerse. Da stabilire ora se la macchina lavorava in modalità automatica anche con la sarecinesca di protezione sollevata, cosa che non dovrebbe mai succedere proprio per evitare queste tragedie. La perizia è la continuazione di quella iniziatta il 12 di maggio quando i tecnici hanno esaminato l'orditoio simile a quello dove è morta Luana, dove erano già state trovate anomalie come il funzionamento in automatico anche con la sarecinesca sollevata, cioè il cancello di protezione non si è abbassato nel momento in cui l'orditoio entra nel vivo della produzione girando più veloce che è la fase di lavorazione più pericolosa. Se questa condizione fosse confermata in entrambi i macchinari diventerebbe difficile pensare che si sia trattato di un caso o di un malfunzionamento. I tecnici hanno estratto la scheda elettrica del macchinario che contiene i dati dell'orditoio e che può rivelare altri elementi utili alle indagini, ma servirà tempo per decifrare i codici di questa specie di scatola nera, per questo saranno chiamati i tecnici della casa madre del macchinario, un Karl Mayer di fattura tedesca. Il perito della procura ha 60 giorni di tempo per depositare la relazione che servirà a chiarire se quel macchinario sia stato manomesso o se l'incidente sia stato causato da un malfunzionamento. Due le persone indagate per omicidio colposo e rimozione dolosa dei mezzi di protezione, la titolare dell'azienda Luana Coppini e il manutentore Mario Cusimano, unico in grado in base all'ipotesi dell'accusa, di rimuovere gli apparati di protezione.